Un momento di condivisione importante, quello del piano marketing cultura e turismo 2018 del Comune di Assisi, come annunciato nel rispetto dei tempi da regolamento approvato ieri sera nella sala della conciliazione di Palazzo dei Priori, l'assessore al turismo e alla cultura Eugenio Guarducci ha spiegato nel dettaglio il piano alla platea composta dalle associazioni di categoria dai membri dei tavoli Assis Turismo e Cultura, da stakeholder del comparto turistico e culturale, oltre che da imprenditori del settore alberghiero ed extraalberghiero, un cambio epocale che farà cambiare passo, così Guarducci l'ha definito, anche a partire dagli investimenti, un totale di entrate di circa 2 milioni e 400 mila euro che per la prima volta arriveranno dal settore turistico grazie all'introduzione dell'imposta di soggiorno.